ciao a tutti amici di film e more sono davide belardo di daruma view e oggi sono ospite del canale di goal picture per presentarvi la steelbook di civil war nuovo film del regista di ex macchina che arriva in questa splendida edizione steelbook con ovviamente disco 4k e disco blu ray devo dire che la steelbook molto bella come è bello anche il film uno dei migliori film della stagione e all'interno potete trovare anche la bellezza di 55 minuti di extra veramente niente niente male per questa scelta ovviamente audio italiano 5.1 hd sia per la lingua originale che per il doppiaggio inglese una volta eliminato il cartoncino possiamo vedere la bellezza di questa stata della libertà mozzata la testa stata libertà mozzata e dall'altra parte abbiamo invece la famosissima mano che tiene la torcia una volta posizionata la steelbook a figura intera guardate che bella 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 complimenti per la scelta a eagle e leone film group che detiene i diritti in italia e poi all'interno troviamo anche i due dischi ovviamente un bell'artwork che vi vado a mostrare a figura intera disco 4k splendido ma in realtà è un film strepitoso ovviamente non stiamo parlando del civil war della marvel ma è un film veramente grandioso che vi trascinerà all'interno di questa guerra civile di questi conflitti civili grazie alle avventure di questo gruppo di reporter è veramente notevole le scene d'azione sono strepitose per me e poi abbiamo anche un buon disco blu ray con 55 minuti di di extra e per finire non manca anche la stampa interna come dicevamo bella 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 questa è una steelbook che trovate disponibile un po ovunque gli amici di film e more vi lasceranno sicuramente il link al loro canale al loro store ufficiale che film e more ve lo ricordo lo store ufficiale della dell'agol picture ma sempre sullo store dell'agol picture trovate anche la versione normale che è esclusiva dello store di film e more e trovate disponibile anche su dvd store ma solo su questi due store quindi se non volete la steelbook c'è anche la possibilità di acquistare la versione amara e classica ma io vi consiglierei di recuperare sta steelbook perché è veramente strepitosa prima di salutarvi se vi è piaciuto questo video mettete un bel like ma soprattutto iscrivetevi al canale non solo per guardare questi contributi ma soprattutto per avere la possibilità di vedere e gustarvi tantissimi film gratuiti che vengono pubblicati ogni mese su questo canale della eagle noi ci vediamo al prossimo unboxing ciao ciao a tutti